La domanda è, sono le domande da parte del pubblico una cosa buona? E la risposta almeno per me è no, non sono una cosa buona, sono una cosa eccezionale perché sono fantastiche, dimostrano innanzitutto l'attenzione e l'interesse da parte del pubblico. Se voi foste nel pubblico e non foste assolutamente interessati, completamente indifferenti ad una presentazione, vi preoccupereste di fare domande? Sicuramente no e lo stesso vale per il pubblico. Se partecipano, se vi fanno delle domande innanzitutto vi stanno dimostrando interesse che vogliono sapere di più e quindi dovreste essere entusiasti di ciò. Oltretutto muove il pubblico da un ruolo passivo, quando ascoltano semplicemente ad un ruolo attivo, quando fanno le domande. Sostanzialmente crea interazione.